Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di Telemolise. In apertura un'ampia pagina dedicata all'emergenza Covid. Sono 56 oggi nuovi casi positivi in Molise su 577 tamponi processati. Con questo il Molise purtroppo si allinea alla media e alla percentuale nazionale. Ascoltiamo tutto nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Ancora una impennata di nuovi positivi in Molise. Dai 577 tamponi processati nelle ultime ore sono emersi 56 contagi. Con la provincia di Isernia che resta quella maggiormente colpita. 5 casi a Campobasso, 8 a Isernia, 5 a Venafro, 4 a Castelpetroso, Cero al Volturno, Termoli e Riccia, 3 a Macchia di Isernia, Forli del Sannio, 1 rispettivamente a Baranello, Boiano, Fornelli, Mirabello, Miranda, Montaquila, Montenero di Bisaccia, Monte Roduni, Oratino, Pesche, Ripa Limosani, Rocca Sicura, San Giacomo degli Schiavoni, San Polo Matese, Santa Croce di Magliano e Scapoli. Si tratta per la maggior parte di casi legati a cluster noti. Si registrano due ricoveri a malattie infettive e due dimessi. In totali i ricoverati in reparto sono 13, uno in terapia intensiva. Ma ci sono anche 12 guariti, due di Larino, Venafro, Campobasso e Isernia, uno di Campomarino, Boiano, Ripa, Bottoni, Santa Croce di Magliano. Gli attualmente positivi sono 501, 1126 i tamponi positivi dall'inizio dell'emergenza, 599 le persone guarite, mentre i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 26. E tra i test rapidi eseguiti in ingresso al Santimoteo di Termoli, tre sono risultati positivi, tra cui uno effettuato su una donna incinta prossima al parto. La 41enne è stata trasportata direttamente al Cardarelli di Campobasso. E restiamo ancora all'emergenza Covid con le novità che arrivano sul fronte delle indagini giudiziarie aperte dalla Procura di Campobasso. È stato il Presidente Toma, nel corso di un'intervista a Radio Rai, a rivelare che il caso su cui si sta tentando di fare luce da parte della magistratura è quello del trasferimento degli anziani dalla casa di riposo di Agnone. Ascoltiamo il servizio di Giovanni Di Tota. I fari accesi dalla Procura della Repubblica di Campobasso sulla gestione dell'emergenza Covid sono puntati su quanto è accaduto nei mesi scorsi agli ospiti di alcune case di riposo e quanto è emerso dalle parole del Presidente della Regione Toma intervenuto alla trasmissione Radio Anch'io su Rai Radio 1. In realtà, ha poi precisato il Governatore, l'inchiesta riguarderebbe i decessi e in particolare quelli riferiti agli anziani della casa di riposo che sono stati trasferiti nottetempo dopo che erano stati registrati alcuni positivi. Il trasferimento era avvenuto in quanto la struttura non poteva essere presidiata. Persone fragili ed esposte che hanno subito il coronavirus ma avevano anche altre patologie. Il trasferimento era avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorso dalla casa di riposo Tavolaosca di Agnone all'ospedale Santissimo Rosario di Venafro. Nella residenza per anziani erano risultati positivi anche alcuni operatori. Le immagini avevano anche provocato forti polemiche. Fa piacere che la Procura Indaghi ha sottolineato Toma a Radio Anch'io perché se qualcosa è avvenuto in maniera non adeguata nulla deve rimanere impunito. L'ipotesi di reato a cui lavora la magistratura, come nei giorni scorsi, ha confermato il procuratore di Campobasso Nicola D'Angelo, e abuso d'ufficio. Intanto Toma, nel corso della trasmissione, ha anche rivelato di non avere in agenda in questo momento l'idea di istituire zone rosse in Molise. I contagi che abbiamo, ha spiegato il Presidente, sono tutti sotto controllo. Il Governatore ha anche aggiunto che non serve chiudere i confini regionali in quanto il Molise ha un'economia molto debole, che deve rilanciarsi. Se chiudo le frontiere, ha concluso, moriremo di povertà. Il Sindaco di Colletorto, Cosimo Mele, chiede con urgenza la possibilità di eseguire altri tamponi richiesti per circa 100 persone, tra cui studenti e personale scolastico. Dei 53 tamponi processati, finora 11 sono risultati positivi. C'è preoccupazione in Paese. Intanto le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici pubblici restano chiusi. Per ora, intanto, l'emergenza Covid ha favorito anche la riapertura di un tavolo organizzativo con il generale Giustini, con cui è stato deciso di autorizzare gli esami Covid oppure presso i privati convenzionati. Ci dice tutto nel servizio Enzo De Gaetano. Chiudere i confini tra regioni non serve. Il Molise è piccolo e moriremmo di povertà. Così, donato Toma al radio anch'io, non ho intenzione in questo momento di fare zone rosse, ha continuato il governatore. I contagi che abbiamo sono sotto controllo. In Molise attualmente non abbiamo numeri da coprifuoco, ma se la curva non si abbassasse, prenderemmo in considerazione altre misure. Lo ha detto sempre il governatore del Molise, a margine della conferenza tra le regioni di questa mattina. Infatti, dopo le restrizioni di Campania, Lazio e Lombardia, anche altre regioni potrebbero prendere decisioni per contrastare l'aumento dei contagi. Stiamo ragionando su trasporti e scuola, ha aggiunto Toma. Per ora applichiamo il DPCM in modo pedisseco. Comunque, quella della permeabilità dei confini regionali a casi di malati Covid è una problematica che viene fuori anche grazie al caso di un paziente oncologico molisano di Macchiagodena, entrato negativo in una struttura ospedaliera campana per essere operato e dimesso positivo e in gravi condizioni. Ora fortunatamente ricoverato in Molise in terapia intensiva al Cardarelli. Intanto, l'emergenza tamponi Covid ha favorito il ritorno di un tavolo comune tra Tome e Giustini. In un incontro tra il governatore e la gestione commissariale, si è deciso di autorizzare anche i laboratori dei privati convenzionati con Regione Asrem a eseguire e processare i tamponi per i propri pazienti. In entrato e uscita dalle strutture, l'idea è quella di arrivare ad un'autorizzazione più larga che faccia effettuare i tamponi diagnostici anche agli altri utenti che rientrino per indicazioni e comunicazioni nella rete del Dipartimento di Prevenzione dell'Asrem. Oltre che di tamponi Covid, Donato Toma ha parlato con Giustini anche di un rafforzamento della medicina territoriale per rispondere in modo appropriato alla richiesta di cura e assistenza sanitaria. Si tratta di un primo incontro interlocutorio, ha aggiunto il governatore, teso a verificare tutte le possibilità che abbiamo di mettere in campo soluzioni operative per migliorare l'approccio di primo livello nella medicina territoriale. L'idea è quella di estendere e implementare la risposta ai bisogni dei molisani. È evidente che il tutto debba passare compatibilmente con le risorse a disposizione anche attraverso un riassetto organizzativo che decentri professionalità e servizi sul territorio molisano. Manca personale negli ospedali. Interrogazione dell'Onorevole Tartaglione al Ministro Speranza. Assumere subito i 23.000 medici neoabilitati. Il testo è stato depositato oggi alla Camera. Dall'Onorevole di Forza Italia, il sistema sanitario ha detto la Tartaglione, soprattutto nel mezzogiorno, rischia il collasso a causa della seconda ondata. Si proceda senza tentennamenti, ha concluso la parlamentare. E adesso la cronaca giudiziaria. Don Marino Genoa, l'ex parroco di Porto Cannone, condannato a 4 anni e 10 mesi per gli abusi su Giada Vitale, sua ex parrocchiana, è stato arrestato. E ora nel carcere di Re Bibbia. Il mio non era un desiderio di vendetta, ma di giustizia. Il commento di Giada all'arresto del prete. Ascoltiamo Andrea Nasillo. I carabinieri lo hanno raggiunto nel monastero di Santa Scolastica di Subiaco. Lo hanno arrestato e portato nel carcere di Re Bibbia. Don Marino Genova, l'ex parroco di Porto Cannone, è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione per gli abusi sessuali, a carico di Giada Vitale, sua ex parrocchiana. Solo pochi giorni fa la conferma dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal procuratore generale e dai legali dell'imputato. I fatti nel 2009. La ragazza di Porto Cannone aveva 13 anni e partecipava come organista alla vita della comunità parrocchiale guidata da Don Marino. Solo dopo tre anni, Giada si confidò prima con una parrocchiana e poi denunciò i fatti alla procura di Larino e al vescovo Gianfranco De Luca. L'indagine fu divisa in due faldoni. A Don Marino è stata riconosciuta la responsabilità penale degli abusi nel periodo che precedeva il compimento del 14esimo anno di età della ragazza, quindi per due mesi, da aprile al 20 giugno 2009. Dai 14 per i tre anni successivi, infatti il Tribunale di Larino è ritenuto Giada Vitale, consapevole e dunque consenziente, archiviando così il procedimento. La Cassazione a fine settembre ha posto la parola fine alla vicenda giudiziaria. Ieri l'arresto di Don Marino. Non si è mai contenti quando una persona va in carcere. Il mio, ha commentato Giada, non era un desiderio di vendetta, ma un desiderio di giustizia. È una storia così dolorosa che ha devastato così tanto la mia esistenza che nulla ormai mi rende felice. Lui ha sbagliato ed è giusto che paghi per quello che ha fatto. Ma trovo, conclude Giada, che chi l'ha protetto fino adesso, diocesi e magistratura compresa, siano più colpevoli di lui. Nei prossimi giorni è attesa anche la risposta del Ministero della Giustizia all'interrogazione presentata dalle parlamentari del Movimento 5 Stelle a Scari e Testamento. L'avvocato Enzo Iacovino ha chiesto la procedura d'urgenza per il suo assistito Massimiliano Scarabeo davanti al Tribunale Civile di Campobasso, presidente di Rauso, che questa mattina ha affrontato la discussione. Nel caso, ricorda Scarabeo, quello dei consiglieri regionali supplenti disarcionati dal presidente del Consiglio regionale in violazione della legge. Tanto che anche l'avvocato che rappresenta I 5 Stelle ha detto in aula che, a suo avviso, la legge che abolisce l'istituto della supplenza avrebbe dovuto trovare applicazione solo dalla prossima legislatura. La Corte si è riservata la decisione. Il giornalista Davide Vitiello è stato prosciolto per non aver commesso il fatto dall'accusa di rivelazione di atti d'ufficio. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Larino che ha accolto in pieno la tesi difensiva dell'avvocato Roberto D'Aloisio. I fatti si riferiscono alla presentazione delle liste nell'ultima campagna elettorale di Larino in merito ad alcune liste che poi sono state escluse. C'è un aspetto dell'emergenza sanitaria che preoccupa alla vigilia di una ricorrenza molto sentita, quella della commemorazione dei defunti. Le visite ai propri cari che non ci sono più tutte concentrate in un unico giorno potrebbero generare pericolosi assembramenti. Il sindaco di Campobasso non esclude per questo la chiusura del cimitero e per poter evitare un provvedimento così drastico lancia un appello ai cittadini. Gravina non esclude inoltre anche possibili chiusure delle strade della Movida qualora la situazione dei contagi in città dovesse peggiorare. Ascoltiamo Enzo Luongo. A dieci giorni dalla commemorazione dei defunti e con la seconda ondata del coronavirus che galoppa preoccupa e non poco la possibilità di assembramenti e conseguenti contaminazioni nei cimiteri. Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina pensa anche ad una possibile chiusura del cimitero cittadino ma spera di evitare un provvedimento così drastico e indica per questo una sola strada. Non vorrei adottare un provvedimento restrittivo però dobbiamo capire di dover magari non aspettiamo tutti quel giorno. Cioè chi vuole regarsi al cimitero lo faccia anche due, tre, quattro giorni prima in modo tale da diluire diciamo così l'affluenza al cimitero fermo restando che di sicuro adotteremo una restrizione per quanto riguarda il contingentamento degli ingressi. Questo sì in modo tale che avremo un controllo più specifico vedremo appunto se possiamo adottare questo provvedimento o andare nella direzione della chiusura che io vorrei evitare perché stando attualmente ai numeri di contagi sarebbe a mio avviso immotivato. Lo stesso di casi per i centri commerciali. Quindi su questo tema l'appello che lei lancia visto che mancano pochi giorni a questa ricorrenza molto sentita e di anticiparsi cominciare già da questi giorni. Alla settimana prossima prego i cittadini di Campobassani dire che tanto l'importante è il pensiero per chi si rivolge appunto quindi fatelo diluendo gli accessi in modo tale che possiamo evitare di adottare un provvedimento che a mio avviso oggi non sarebbe giustificato per come stando nel contagio. Alcuni sindaci parliamo di città più grandi di Campobasso hanno già deciso di chiudere alcune strade insomma della movida serale. A Campobasso ci potrebbe essere un provvedimento di questo tipo secondo lei? Assolutamente sì anzi lo preannuncio non ci sarà esitazione all'aumentare che spero non avvenga di contagi. Purtroppo lo sappiamo i ragazzi in generale insomma tutti lo siamo stati quindi non dimentichiamo i tempi che furono dove ci sentiamo tutti magari forti tutti invincibili però l'appello è di essere attenti perché la maggior parte dei contagi innanzitutto avviene in famiglia quindi i ragazzi possono essere veicolo di trasmissione all'interno delle famiglie non si vuole essere restrittivi fino a quando però non avremo diciamo così numeri un po' allarmanti. Al momento devo dire che c'è una gestione più attenta anche perché aiuta le forze dell'ordine ad effettuare i controlli nel rispetto delle normative che già esistevano e che noi abbiamo in qualche modo ridefinito però sì questo lo dico insomma i provvedimenti che possono essere adottati dai sindaci insomma è consentito e quindi non esiterò a farlo. L'effetto delle diseguaglianze sociali sullo stato di salute delle persone è questo l'argomento che affronta oggi il dottor Italo Marinelli nella consueta rubrica le parole della medicina. Vediamo. Tutti conoscono la celebre poesia del principe dei Gurtis in arte totò che si chiama la livella il giorno dei defunti gli spettri di un marchese di un netturbino si incontrano e ne viene fuori un dialogo che vi invito a leggere il cui significato sta nel fatto che di fronte alla morte le diseguaglianze sociali si annullano la morte è una livella ma in vita le diseguaglianze ed è questa la parola del giorno contano e contano moltissimo e anche e forse soprattutto in sanità vi do dei numeri negli Stati Uniti ci sono circa 200.000 decessi per covid ad oggi solo 100 per fortuna relativamente sono bambini o adolescenti ebbene di questi 100 bambini e adolescenti americani il 45% sono ispanici latinoamericani il 29% neri appartengono cioè a classi gruppi etnici socialmente svantaggiati perché hanno minore accesso alle cure il sistema sanitario americano è privatistico perché hanno peggiori condizioni di alimentazione perché hanno peggiori condizioni abitative e igienico-sanitarie in genere quindi semplicemente muoiono di più perché sono più poveri accanto a questa povertà materiale però c'è anche una povertà che sta riemergendo in questi mesi che è la povertà educativa dobbiamo metterci in testa che al pari degli ospedali delle caserme delle fabbriche le scuole sono importantissime e i propri gruppi sociali più svantaggiati sono quelli che risentono maggiormente della chiusura delle scuole un uomo residente nella provincia di Sernia è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile per estorsione ed usura ai danni di un allevatore a cui l'usuraio applicava un interesse del 500% per un prestito fatto di soli 600 euro lo strozzino è al momento agli arresti domiciliari la procura di Sernia ha pubblicato un bando per lo svolgimento di un tirocinio formativo di 18 mesi per giovani di età inferiore ai 30 anni laureati in giurisprudenza le domande dovranno essere presentate entro il 20 novembre prossimo l'associazione italiana familiari e vittime della strada arriva anche in Molise aperte due sedi a Termoli e Ururi anche il nostro territorio registra drammi e tragedie l'associazione tra le diverse iniziative offre agli associati aiuto legale e psicologico ascoltiamo Andrea Nasillo arriva anche in Molise l'associazione familiari e vittime della strada due le sedi nel territorio regionale a Termoli e a Ururi l'associazione che da sempre porta avanti una grande battaglia di civiltà oltre ad offrire agli associati aiuto legale conforto umano e quando possibile psicologico è aperta la collaborazione con tutte le istituzioni per sostenere la cultura della sicurezza e del rispetto della vita un'attenzione scrupolosa dalla semplice violazione del codice della strada alla più terribile delle tragedie il Molise non è immune da queste stragi da questi fatti di cronaca che spesso ascoltiamo ed era doveroso impegnarci in tal senso quali sono i passi successivi immediati che farete? faremo subito una conferenza stampa per illustrare in modo più dettagliato tutte le iniziative e le attività dell'associazione è chiaro che incominceremo da subito a lavorare ed essere vicino alle istituzioni con le quali collaboreremo e saremo vigili e attenti perché questo fenomeno come dicevo prima anche presente nella nostra regione vada ridotto anche come sono le direttive europee in tal senso è un'associazione che non solo dà un supporto legale ma anche un supporto psicologico alle famiglie? sicuramente nei limiti possibili anche un supporto psicologico ci sono due sedi in Molise quindi le prime due sedi del Molise dove sono? allora la sede di Termoli dove è responsabile l'ingegner Michele Cianci e la sede di Ururi oltre a altre informazioni possono essere reperite nel sito istituzionale nazionale l'associazione si batte per fermare le stragi stradali con l'impegno tenacemente sostenuto dall'esperienza del dolore è abilitata anche a collaborare all'educazione stradale nelle scuole e legittimata a costituirsi parte civile nei processi quale portatrice dell'interesse collettivo alla sicurezza stradale ci spostiamo ora a Santo Stefano frazione di Campobasso dove l'associazione Tratturando ha avviato una serie di iniziative per valorizzare l'importante ricchezza di cui dispone la transumanza dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO tra i progetti c'è la riapertura al pubblico della bottega di Ernesto Saquella dove l'artista produceva le sue opere ci dice tutto Anna Maria di Matteo Santo Stefano frazione di Campobasso un piccolo borgo a pochi chilometri dal capoluogo che possiede una grande ricchezza il Tratturo che di recente è stato dichiarato patrimonio immateriale UNESCO l'associazione Tratturando dopo i mesi difficili del lockdown riparte e riparte dalla riapertura della bottega Saquella dove l'artista molisano produceva le sue opere un antico frantoio risalente al 1600 che Saquella ristrutturò e nel quale trascorreva gran parte delle sue giornate dobbiamo ripartire è il sistema nazione che deve partire il sistema Italia che deve ripartire noi come associazione Tratturando come prologo di Santo Stefano e come tutta l'intera comunità stiamo lavorando oramai da tantissimo tempo sul nostro borgo che ha una vocazione naturalistica e che ha una serie di peculiarità che sono state dimenticate nel tempo noi le stiamo rispolverando una di queste peculiarità è il Tratturo sul Tratturo c'è la scommessa non solo del nostro borgo ma dell'intera comunità molisana la nostra religione deve scommettere sul Tratturo e quindi il riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO che c'è stato praticamente qualche mese or sono non ci ha dato altro che la spinta a continuare la voglia di metterci sempre in discussione e oggi con questa riapertura di questa casa prestigiosa di questo laboratorio d'arte del maestro Sacuella siamo qui ad essere presenti a dire all'intera comunità al Molise che sul Tratturo e per il Tratturo possiamo fare tutti quanti una scommessa e quindi la riapertura di questo laboratorio d'arte di Ernesto Sacuella non è altro che lo scrigno perché ci sono tanti libri ci sono tanti quadri c'è ancora si sente pulsare la vitalità di un artista polietrico a 360 gradi lui era uno scrittore era un filosofo era un grande artista era una persona che aveva questa grande capacità di essere un innovatore e allora sulla tradizione del Tratturo l'innovazione di Ernesto era questa è stato uno dei primi che ha parlato del Molise digitale che è fondato nel 1995 il Molise online cioè tutto quello che intorno a questo noi possiamo costruire per costruire questo abbiamo bisogno chiaramente di avere dei riferimenti e quindi le istituzioni per noi sono importanti ma abbiamo bisogno che le persone che i nostri concittadini i nostri corregionali sappiano che l'oro è il tratturo e su questo oro noi dobbiamo costruire il futuro di questa regione e in chiusura parliamo di una religiosa suor Maria Ludovica De Otto che oggi compie 105 anni nata a Castelbottaccio il 22 ottobre del 1915 attualmente viva a Roma e appartiene alla congregazione delle suore dominicane di Santa Caterina da Siena suor Maria Ludovica gli auguri da parenti e da quanti l'hanno conosciuta nella sua lunga vita a cui aggiungiamo anche gli auguri di tutta Telemolise ebbene si chiude qui l'ultima edizione del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione e con la nostra rassegna stampa a voi tutti buonanotte a scuov stencil